Prova ad attaccare adesso la palla e Maida Attacco del Roccella con Mammolenti, attenzione un assist interessante per il numero 11 che si trova tu per tu con Straface Luciano si è trovato con questo assist di Mammolenti davvero interessante Giocatore Mammolenti, l'avevo letto su internet, uno dei giocatori più tecnici di questa squadra Sire da Luca, verticale per Nosdeo, Nosdeo ancora, stessa verticale a sinistra Il primo assistente vede un fuorigioco e ferma l'azione